Este, un motociclista di 60 anni ha perso la vita sbandando e colpendo un cartello stradale in via a teste. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire le dinamiche e le cause dell'incidente, forse un malore. A loro arrivo i sanitari del suo M118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.